Un giorno da ricordare quello del 30 dicembre per la città di Bitonto. Quattro anni fa si consumò un brutale omicidio di mafia e a perdere la vita nello scontro a fuoco tra clan rivali fu l'innocente Anna Rosa Tarantino. L'84enne fu lasciata, ormai esanime, a pochi passi dall'ingresso del centro storico a Porta Robustina ad un tiro di schioppo da Piazza Caduti del Terrorismo. In quest'ultimo anno la piazza è stata completamente rivalutata e oggi si è svelata alla cittadinanza ed è proprio a Anna Rosa, dopo la deposizione dei fiori sotto la targa in memoria, che è stata dedicata alla piazza in segno di rinascita per tutta la comunità. I lavori sono stati eseguiti in appena dieci mesi ed è solo il primo dei quattro interventi del progetto Lungo Lama, finanziato con fondi Cipe nell'ambito del patto per la città metropolitana di Bari. È stata creata dunque un'area pedonale ed è in via di completamento un'area ludica immersa nel verde, oltre alla nuova illuminazione e ad alcune tabelle che illustreranno i reperti archeologici e il passaggio della Via Traiana proprio in quella zona. Sì, era un impegno che avevamo preso con i residenti di concludere entro fine anno, almeno l'apertura della piazza. È stato bello farlo nel giorno in cui avremmo comunque ricordato Anna Rosa Tarantino la sua memoria. Qui non abbiamo fatto altro che creare un'area pedonale collegandola ai beni storici principali della piazza. C'è anche una chiesetta medievale del 1600 perfettamente recuperata e c'è un solco anche che ripercorre Via Traiana, che abbiamo lasciato nella Via Traiana che adesso non c'è più. Pensare che a due passi di qui si è consumato quell'assurdo attentato alla vita di una persona innocente ci fa apprezzare di più quello che stiamo vivendo, ma soprattutto ci deve ricordare che la droga è soltanto un modo per mettere la pistola in mano a certi individui. La manifestazione è stata un'occasione per riunire i parenti della signora Tarantino, Peppino Fazio, padre di Michele, vittima innocente della mafia barese, il presidente dell'Antiracet Renato De Scicciolo e i tanti sindaci e amministratori dell'area metropolitana, primo tra tutti il sindaco Antonio De Caro che ha sottolineato la doppia valenza di questa giornata. Ha sempre una valenza simbolica. Inaugurare questa piazza oggi e farlo in questo giorno ha una valenza simbolica maggiore. È una reazione di una comunità, di tutti i cittadini dell'area metropolitana, in particolare della comunità di Vitonto rispetto a quello che è accaduto. Lo dovevamo alla signora Rosa, ai suoi familiari e anche ai cittadini che magari nei primi giorni hanno avuto paura anche ad attraversare le strade di questa zona della città. Inaugurare questa piazza oggi significa che la comunità di Vitonto non ha girato la testa dall'altro lato, la comunità di Vitonto ha alzato la testa, ha reagito. È un modo per tutti noi di reagire alla criminalità organizzata. Oggi non stiamo risolvendo il problema della criminalità organizzata di Vitonto e nemmeno dell'area metropolitana di Bari, però stiamo dando un segnale preciso a quelle persone, dove loro portano il marcio dei loro affari sporchi. Noi qui portiamo i bambini a giocare, portiamo le persone che loro magari vorrebbero chiuse in casa. Invece le persone vengono qui, in questa piazza, in questo luogo di aggregazione, dove le persone fanno comunità, si tengono per mano e diventano una comunità più forte che può reagire alla criminalità organizzata.